Il mio primo ricordo di Milano è innovazione, tecnologia, fashion, modo e in qualche modo anche cibo, perché è molto innovativa sulla ristorazione. Il futuro di Milano credo che sia di avere un ruolo centrale a livello europeo, sicuramente c'è già una forte leadership che io credo che nei prossimi 5 anni, grazie anche all'Expo e tutto quello che c'è, sicuramente lo porterà in giro per il mondo, quindi vedo una Milano protagonista. Sicuramente sì, Milano ci da Stato, perché con una forte autonomia, come ci hanno anche altre città molto importanti europee, si può andare più veloce, avere più autonomia e sicuramente portare più velocemente Milano nel mondo.